La prima cosa da fare è guardare dov'è. Lì c'è un Bruno Vespa sotto. La prima cosa da fare è prendere un Emanuele Severino che mi sembra interessante e comprire subito i libri di Bruno Vespa. Si coprono in modo che non diano proprio sospetto così. Poi se ne vediamo degli altri, per esempio, lo metti così, poi questo lo metti con, ci mettiamo davanti, stelle, serizio, va bene così, e questo che avanza lo mettiamo qua e ci mettiamo sopra un Roma così, ecco.